Sei in arresto per l'omicidio di Roland Lecron? Non posso credere che ti abbiano dato l'ergasto. Da questo momento, ispirato a una storia vera, siete di proprietà dell'amministrazione penale della Guyana francese. L'Uldegas è un milionario. Non durerà a lungo. Io posso proteggerti. Mi servono solo abbastanza soldi per una fuga. Sentitevi liberi di provarci quando volete. Saremo ben lieti di spararmi. BABBIAN! In prima visione, BABBIAN. Domenica, 21 e 20, RAI 3.